Abbiamo invitato anche la ministra Boschi oggi in piazza qui, non è voluta venire, sono settimane che forse per senso di vergogna non si presenta nella sua città però gli facciamo pervenire quelle che sono le proposte del Movimento 5 Stelle. Uno, devono pagare i responsabili tutti, in questo paese non paga mai nessuno per il dolore di tanti cittadini. Due, la Banca d'Italia deve tornare pubblica, nazionalizzata, deve essere controllata dai cittadini e non dagli istituti privati. Fateci caso, appena il Movimento 5 Stelle ha iniziato a fare delle proposte sulla sovrenità monetaria, sulla rinazionalizzazione di Banca d'Italia sono ritornati gli attacchi osceni di questo sistema mediatico, dittatoriale, partitocratico, massonico che ci ha tolto regolarmente i diritti però ci dà in cambio dei bonus. Ma vedete che succede? Questi ci vogliono inginocchiati a ringraziarli perché ci danno delle mancette dei bonus quando dovremmo stare quotidianamente in piedi, a testa alta, semplicemente a chiedere quello che ci spetta, i nostri diritti non sono bonus. Le banche d'affari e le banche commerciali devono essere separate, così un cittadino qui d'Arezzo mette dei soldi in una banca commerciale e sa che questa banca dà credito alle imprese, alle famiglie per mettersi su casa ai giovani per fare una start-up e non emigrare in India. Come vogliono farci, dove vogliono farci andare? E vedrete che le banche così non falliranno se la Consob non fosse in conflitto di interessi se Banca d'Italia non fosse in conflitto di interessi con gli istituti privati ma come può fallire una banca? Come può fallire una banca nel 2016? Com'è possibile? È possibile perché Banca Etruria e tutte le altre banche da questi comitati d'affari, da questi clan che si chiamano Renzi e Boschi sono clan, non sono famiglie di politici. Queste banche sono state spolpate come? Dando quattrini a destra manca agli amici degli amici anche alle fondazioni bancarie legate a Renzi la stampa questo dovrebbe cercare quanti quattrini ha preso? Renzi, le fondazioni del tesoriere come si chiama il tesore del PD? Bonifazi, sta gente quanti soldi ha preso da Banca Etruria, da queste altre banche? Verdini, cosa c'entra? Renzi che controlla Verdini o è Verdini che controlla Renzi in questo paese? Renzi è diventato sindaco di Firenze grazie a Verdini e Berlusconi oggi Berlusconi gli dà il regalo Verdini Verdini gli dà i voti alla schifosa riforma costituzionale che si chiama Boschi e il giorno dopo ottiene delle poltroni importanti in Senato e quella bella personcina di papà Boschi no perché il ministro a me mi ha detto che una bravissima persona andava a piedi al lavoro e che sa solo lui va a piedi al lavoro quella bella personcina qualche anno fa aveva dei problemi in Banca Etruria diventato tra l'altro vicepresidente dopo che la figlia diventa ministro e chi va a chiedere una mano a quel Flavio Carboni Massone, amico di Licio Gelli, altra persona che abitava qua vicino condannato per il crack del Banco Ambrosiano quello per il quale hanno suicidato Roberto Calvi è sotto inchiesta per la P3 insieme a chi ha dell'utri in carcere e a Verdini, il nuovo padre costituzionale ma che paese siamo diventati? ci tolgono quotidianamente il diritto alla salute, il diritto al risparmio il diritto all'istruzione però arriva al bonus 80 euro il bonus non lo so 30% ai risparmiatori truffati e sono sempre gli stessi clan e poi ci fanno credere che stanno contro le banche contro la Banca Centrale Europea ma il bail-in che cos'è il bail-in? il bail-in significa che un domani quando questi truffatori questi farabutti continueranno a spolpare le banche come hanno fatto con MPS recentemente altra banca riconducibile al Partito Democratico utilizzeranno i risparmi dei cittadini delle imprese uno dice ma 100.000 euro mica tutti hanno più di 100.000 euro ma un'impresa che lavora da 40 anni non ha 100.000 euro in banca e questi soldi verranno prosciugati per salvare qualche banchiere che ha fatto lo schiaffari anche con la parte peggiore della mossoneria che mi dispiace ma per me è un onore poter denunciare lo schifo che ha fatto la massoneria anche in questa terra l'ex direttore del Corriere della Sera De Bortoli disse parlando di Renzi stantio d'ore di massoneria e questi per coprire le schifezze che fanno sulle banche le schifezze che fanno di ogni tipo le lobby del petrolio che dettano legge il cemento che detta legge a Roma chi comanda sono i palazzinari i cementificatori per nascondere le loro porcate tirano fuori i casi del Movimento 5 Stelle il caso quarto come l'hanno pompato come l'hanno pompato solo esclusivamente per delegittimare l'unica forza fatta da cittadini per bene che combatte da tre anni contro tutto e tutti contro la peggiore stampa di regime contro le televisioni controllate dal governo Renzi contro quei giornali sotto ricatto perché Renzi gli dice o tirate fango sul 5 Stelle e dite che io sono De Gaulle oppure vi tolgo i quattrini del finanziamento pubblico all'editoria ricatti dei vigli e sporchi ricattatori querelasse più alziamo la voce più avremo la possibilità di recuperare questi denari e prima mi diceva un negoziante di Arezzo il problema non sono soltanto le persone truffate appunto dai pezzi grossi di Banca Etruri oltretutto certi reati commessi dai grandi banchieri fanno sembrare i reati dei boss di mafia capitale l'organizzazione criminale nata grazie al Partito Democratico Romano dei reati da rubagalline quanti miliardi si sono rubati su MPS che cosa sarà? me lo dice sempre Alessio Villarosa nuova banca Etruria chi se la comprerà nuova banca Etruria? qualcuna di queste grandi banche quello che vogliono è far sparire una serie di banche le banche che hanno dato il credito le banche popolari, le banche commerciali e centralizzare il potere in poche banche quelle stesse banche che vennero poi tutelate e sostenute economicamente con quel decreto Imo Banca d'Italia vi ricordate anni fa quanto ci siamo posti sapendo che i nostri soldi andavano agli istituti di banche private che controllano appunto Banca d'Italia vi ricordate quanto ci hanno attaccato perché siamo scesi con forza in Parlamento alla Camera dei Deputati per tentare di bloccare uno sceno decreto che dava soldi nostri alle banche private e la Presidente Boldrini applicò la ghigliottina quel giorno ci tolse la possibilità di opporsi una parte di opinione pubblica ci criticò ma questi grillini come ci chiamano ma fanno troppo casino in Parlamento stavamo difendendo i vostri soldi quello che continuiamo a fare ogni giorno difendere i soldi dei cittadini e io lo dico agli scettici più troverete pagine di fango verso il Movimento 5 Stelle più dovreste votare il 5 Stelle perché più ci attaccano più significa che hanno paura più spaventano e più significa che sono spaventati delle persone per bene che sono in Parlamento senza un lobbista un massone un mafioncello un imprenditore non un imprenditore che ci ha dato i quattrini io sono entrato in Parlamento e ho speso 144 euro di campagna elettorale non devo dire signor sì a nessuno a nessuno io mai avrei pensato che il partito no democratico che viene da Berlinguer fosse diventato peggiore del peggior partito berlusconiano questi ci prendono in giro proprio perché dicono di essere di sinistra uno pensa ma ti pare che un partito di sinistra fa questo fa peggio perché in più ha questo alone di superiorità morale rispetto agli altri io vengo da Berlinguer oggi hanno a che fare con ripeto che cosa sta succedendo in Emilia che sta succedendo i legami tra l'andranghe del partito democratico in Emilia con anche lì appalti il ministro del Rio che non sa nulla di sindaci ai quali che comprano casa da arrestati nell'operazione Emilia il crimine organizzato si è fatto stato in questo paese ecco il 5 stelle vuole che il cittadino si faccia stato è questo il concetto c'è qualcuno scettico dice Grillo casaleggio ma non lo vedete che questi ci provano solo quotidianamente a distogliere l'attenzione dalle questioni importanti ripeto ci tolgono quelli che sono dei diritti costituzionali costituzionali il diritto a un po' di salute a un'aria pulita a mangiare bene ad avere una casa un tetto a vedere i propri figli felici che possano crescere in questo territorio un pensionato che possa campare con la pensione e non fare la fame con 400 euro al mese un cittadino che dopo 40 anni di risparmi vette questi soldi in banca Etruria gli garantiscono che sono titoli assolutamente sicuri tranquillo ma figuratevi prendo proprio in giro io ci conosciamo da 30 anni e dal giorno all'altro senza che il governo abbia detto nulla vede i propri risparmi e ripeto i negozianti qua che in Natale hanno passato qui ad Arezzo con questo timore collettivo giustamente di queste banche che ci hanno rubato tutto a cominciare dalla sicurezza qua si tratta di sì il tema è la sicurezza il presente il futuro e tanti commercianti qui hanno passato un Natale d'inferno non hanno venduto nulla vedete come la reazione è a catena il circolo è vizioso e io mi devo sentire queste persone che difendono il padre papà perfetto un papà per bene e scusate questo magistrato la magistratura la politica che parla della magistratura è sempre negativo per l'amor di Dio ma io voglio capire ma questo magistrato che dice che non conosceva il padre della Boschi non dottorio in Parlamento l'ho chiamato dottor Boschi non è dottore e poi si scopre che lo archiviò anni fa tra l'altro una vicenda anche quella oscura pare che stava in affari con una persona anche vicino all'ambiente dell'andrangheta ma come non lo conosceva e questo giudice è diventato procuratore qui ad Arezzo dopo aver archiviato la famiglia Boschi e è consulente del governo Renzi scusate per l'amor di Dio la magistratura è sacra indipendente però io non so se questo giudice oggi è al di sopra di tutti i sospetti e io voglio che un magistrato che debba indagare per far recuperare denari ai cittadini truffati sia al di sopra di ogni sospetto punto ci sgoliamo combattiamo da tre anni combattiamo stiamo provando a dare un'idea di stato differente sembra un esempio il fatto che ci tagliano gli stipendi ma il concetto è il microcredito alle imprese qui le banche non danno un quattrino all'impresa lo danno solo se ti chiami Renzi Boschi Compagnia Bella e noi con i nostri soldi stiamo mandando avanti con il microcredito migliaia di imprese in Italia abbiamo poco abbiamo due lire sono i soldi dei nostri stipendi quello che per legge ci spetterebbe ce lo potremmo tenere le domeniche potremmo stare a casa con le nostre famiglie con i nostri amici stiamo sempre in giro nelle piazze senza scorta a parlare di idee di proposte dateci un'occasione comunque qua non è un comizio elettorale non voglio parlare troppo del movimento voglio dirvi quelle che sono appunto le nostre proposte i dividendi che Banca d'Italia garantisce e largisce le banche private devono andare a questi risparmiatori e questi risparmiatori non si devono accontentare di un bonus del 20% così campo se ci iniziamo ad accontentare e ad accettare mancette al posto di diritti il sistema vince dobbiamo essere molto compatti noi staremo sempre al fianco dei risparmiatori faremo un tour importante in tutte le zone colpite dal decreto salva banchieri ammazza risparmiatori è importante essere compatti che siamo cittadini del 5 stelle dei partiti non me ne interessa nulla compatti qua si tratta solo di difendere diritti diritti e la carta costituzionale vi ringrazio vi ringrazio spero che il ministro Boschi si ripresenterà in questi giorni non ha detto una parola si è discolpata ha parlato del padre delle origini umili una parola in faccia a me veramente di cuore a sostegno della gente truffata nulla freddi glaciali sono clan freddi glaciali entrati in politica per portare avanti poi l'idea di liciogelli della P2 una a una le stanno facendo ripeto con la compiacenza di un sistema mediatico io li capisco alcuni giornalisti che pur di difendere un posto di lavoro devono assolutamente elogiare Renzi anche quando non può mai essere elogiato ma vi dico che forse difenderete il posto di lavoro vostro ma state progiudicando il posto di lavoro dei vostri figli io questo lo voglio dire ai giornalisti con chiarezza con educazione con rispetto o si alza la testa i primi che la devono fare sono quelli che devono fare le pulci al potere trattate tutti gli altri come trattate il 5 Stelle noi non vogliamo favoritismi fateci le pulci ma fateli anche ai decreti legge di Renzi fatele alle liste del PD sporche fatele all'Emilia Romagna dove il PD ha dei problemi grandi come una casa con l'andrangheta trattate gli altri come trattate noi e vedrete che questo paese sarà molto più pulito grazie a tutti e buona domenica grazie a tutti 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 grazie a tutti